Ha accennato già che lascia questa presidenza con dei grandi risultati, Assessore. Quali sono? Sì, risultati grandi perché appunto non è la prima volta, come ho detto, che un Assessore regionale istituzionalmente guida il TSA. Infatti di Dalmazio, che mi ha preceduto, faceva la stessa cosa. I grandi risultati sono quelli di aver mantenuto un bilancio sano, senza sfori, in un momento difficile dopo il terremoto, dove anche molte altre istituzioni, senza far nome, hanno visto purtroppo una grossa debacle per diversi motivi. Noi abbiamo mantenuto la stessa struttura, le stesse persone che lavoravano, quindi già di per sé un grosso risultato. Abbiamo mantenuto un cartellone degno dell'ultimo, quello del 2008. Noi abbiamo nominato il direttore artistico che mancava da molti anni alla guida del teatro stabile abruzzese, nella figura di Alessandro Preziosi, che è, insomma, detta di tutti, è un attore emergente, un attore conosciuto a livello nazionale, che può e sicuramente già dato una grossa spinta al teatro. Perché la scelta di questo nuovo Presidente? Ma la scelta di questo nuovo Presidente perché penso che il periodo, chiamiamolo così, di commissariamento, che può fare un assessore regionale, si è terminato. Si è pensato unitamente al Presidente Gianni Chiodi, perché è lui che, logicamente, nomina il Presidente del teatro stabile abruzzese. Questa figura di questo ingegnere, io dico giovane perché è più giovane di me, ingegnere giovane, che però ha una grossa valenza e preparazione nell'ambito teatrale, perché so essere già Presidente da diverso tempo il Teatro dell'Ovo. Durante la conferenza stampa lei parlava del Presidente come di un medico, addirittura come di un primario. Curare le ferite dell'Aquila è stato difficile ed è difficile. Sicuramente il teatro stabile ha proseguito sul solco degli anni antecedenti l'evento tellurico e penso che un Presidente che poi stiene nella città dell'Aquila, quindi vicino anche all'istituzione, perché il teatro stabile è abruzzese, sì, ma ha una sede qui all'Aquila, quindi i suoi uffici e quant'altro. Ripeto, 24 ore su 24 sia il viatico migliore per ripartire alla grande.